Ida Platano e Alessandro Vicinanza, coppie di uomini e donne, festeggiano i loro 10 mesi d'amore. All'inizio non ci credeva nessuno che sarebbero resistiti assieme, invece tanti hanno dovuto ricredersi perché il loro amore, nato nel programma di Maria De Filippi, sembra forte e sincero. Sembra che la coppia, quest'estate, ha attraversato un piccolo periodo di crisi, ma è normale che non li ha. Ma quando c'è l'amore, tutto si supera. I due innamorati stanno festeggiando i loro primi 10 mesi d'amore, proprio in questi giorni. E per questo motivo si stanno divertendo assieme, viaggiando spesso. Infatti la coppia è andata perfino a New York. Ora sembra che la coppietta sta festeggiando questo evento in Sardegna, in un romantico albergo. La donna ha mostrato su Instagram una storia con tutti e due distesi nel letto, con accanto il numero 10, seguito da un cuore.